Ciao a tutti, allora lunedì 5 giugno, lunedì prossimo praticamente, dalle 10 alle 12, due ore in videoconferenza interattiva, nel senso che possiamo parlarci, non è un video in cui parlo io e voi potete solo ascoltare, corso sui risotti, è un corso di cucina amatoriale, che ovviamente non significa che il risotto verrà meno bene, anzi secondo me verrà meglio, perché amatoriale? Perché miro a spiegare come fare un risotto a casa propria, ecco perché mi vedete in questo ambiente, qui abbiamo i fornelli, il giorno del corso ci sarà una videocamera puntata anche qui sopra, una davanti a me sul tagliere e quella con cui potrete vedere me e io vedrò poi. Cosa faremo? Parleremo naturalmente del risotto in termini tecnici, quindi tutto quello che dobbiamo sapere per fare un buon risotto e intanto che ne parliamo, che do le spiegazioni eccetera, ne faccio una, ne faccio una, avremo modo anche di parlare delle casseruole, dei vari materiali e delle varie forme, perché a volte si usa il ferro, perché a volte si usa il rame, perché a volte si usa l'acciaio, eccetera eccetera. Parleremo anche delle dimensioni, perché quando facciamo un risotto una cosa fondamentale è la dimensione della casseruola, che è uno dei parametri più importanti. Parleremo del brodo, parleremo della controsalsa, parleremo di tutta una serie di cose. Va bene, allora, quanto costa il corso? Il corso costa 80 euro, è l'ultimo corso di questa stagione, l'anno prossimo si vedrà. E i riferimenti, come fate ad iscrivervi? Vabbè, prima cosa mandate un'email al mio solito indirizzo, fradefra, chiocciolina, fraschef.it, in alternativa, il mio monitor si spegne, in alternativa potete scrivermi su whatsapp 349 2207339, oppure mandatemi un sms, ormai non si usano più. Whatsapp è probabilmente la cosa più semplice, vi passo i riferimenti per il bonifico bancario e vi passo un'email con la conferma dell'avvenuta iscrizione e la url di Meet su cui facciamo il tutto, il corso è confermato perché una serie di iscritti ce l'ho già da un pezzo e niente, ci vedremo. Per adesso, a tutti quanti buon weekend, saluti, baci e abbracci, il mio solito saluto.